Il racconto del mercoledì, in diretta dal Vaticano, una produzione Telepace e Vatican News, a cura di Eugenio Bonanata. Venerdì prossimo, 14 giugno, il Papa sarà in Puglia, in occasione del G7, per parlare di intelligenza artificiale e di pace, per incontrare i leader presenti all'appuntamento. Lo ha confermato lo stesso Pontefice, ieri a margine dell'incontro con alcuni sacerdoti romani, avvenuto presso l'Università Pontificia Salesiana. In attesa dell'avvia dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ne parliamo con Don Fabio Peloso, dell'Opera Don Orione, e con Luca Collodi, collega giornalista di Radio Vaticano, a Vatican News. Grazie ad entrambi di essere con noi. Allora Luca, è stata molta curiosità l'annuncio della partecipazione del Papa al G7, il primo Pontefice della storia, a prendere parte di un appuntamento del genere. Io trovo un momento importantissimo questa presenza del Papa, anche perché viviamo in un tempo politico e sociale molto difficile. Io credo che il Papa, in un consesso che immagino darà ancora via libera agli aiuti all'Ucraina e quindi in qualche modo tornerà nella giusta difesa di un paese aggredito, ma anche ad alimentare la guerra, io credo che la parola del Papa davanti ai sette grandi del mondo potrà avere un grande significato. E spero che i sette grandi del mondo prendano bene in considerazione, immagino, quello che il Papa andrà a dire sulla pace. E sarà l'occasione per incontrare i leader, quindi con incontri bilaterali, no? Sarà l'occasione per incontrare i leader in un momento molto difficile. Il Papa spessissimo ricorda le guerre che sono nel mondo, ha ricordato e ricorda l'Ucraina, il Medio Oriente, ma anche il Myanmar, il Congo. Ci sono tantissime realtà oggi, questa famosa terza guerra mondiale a pezzi che è sempre più concreta. Vediamo anche a livello politico le conseguenze. Oggi le elezioni, abbiamo visto le elezioni europee, le conseguenze che hanno avuto per la democrazia all'interno di alcuni grandi stati, come per esempio la Francia e altri paesi dove i premier dopo l'esito elettorale si sono dimessi, o comunque hanno indetto nuove elezioni. E quindi io credo che la parola del Papa in questa fase della storia politica, sociale e economica del mondo abbia una rilevanza fondamentale. Don Flavio, il Papa ieri pomeriggio è andato alla Pontificia Università Salesiana. Chiedo alla regia di mandare in onda le immagini che abbiamo ricevuto di questo incontro, di questo appuntamento, dove ha incontrato un gruppo di sacerdoti di fascia media della Diocesi di Roma e ha discusso con loro a porte chiuse di temi pastorali. Ecco, qual è secondo lei l'importanza di questi appuntamenti? Sono stati diversi negli ultimi mesi. Ma il Papa sta svolgendo il suo pontificato con una forte incarnazione sulle varie piazze, dei problemi, delle persone, entra in tutti i temi senza paura. Ieri questo incontro, un incontro pastorale, naturalmente la risonanza mediatica è andata su un nuovo accenno circa l'ammissione di persone omosessuali nei seminari e quindi al sacerdozio, naturalmente confermando l'orientamento negativo, peraltro già ben illustrato in un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2010 e quindi questo orientamento è stato mitigato, no mitigato, ma così, dentro un contesto comunque di stima anche di queste persone meritevoli di attenzione, da accogliere eccetera. Però per il Ministero Sacerdotale, per il tipo di vita, proprio di vita sacerdotale ed il Ministero Sacerdotale ha ribadito l'opportunità della non ammissione di tali persone. Luca, un tema spinoso, un tema che poi, come dire, affascina i media, no? Perché sono lì tutti a fare scopo, a fare questi racconti, a fare queste narrazioni che insomma vertono sull'argomento. Ma ormai anche l'informazione sulla realtà cattolica, sul Papa, risente anche di una profonda ideologia che è tipica del nostro mondo in questo momento. Io credo che il Papa dia una indicazione del tutto prudenziale e di conseguenza poi questo ha una ricaduta certamente nella formazione eccetera. Però credo che ci sia una anche eccessiva morbosità oggi della stampa, di questa grande stampa che spesso, anziché informare, in qualche modo dirige l'informazione dove meglio vuole andare in qualche modo a parare. E lo diciamo da giornalisti, io lo dico da giornalista. Comunque c'è da dire anche che gli incontri che il Papa fa nelle realtà romane sono anche in funzione del Giubileo, questi incontri di preghiera che lo portano in veste di catechista a visitare diverse realtà anche periferiche, non solo delle chiese ma anche, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, in un condominio. Eugenio soprattutto periferiche perché il Papa poi abbiamo visto sta andando in parrocchie per incontrare i sacerdoti ma anche le comunità locali che non sono proprio del centro romano, del centro storico, anche se mi sento di dire da non romano che anche oggi poi le parrocchie del centro non sono più quelle di una volta, nel senso che anche nel centro storico gli ultimi ci sono, oltre che nelle periferie romane, quindi oggi la Chiesa ha un compito sempre più vasto e sempre più delicato. Don Flavio, parliamo un po' di San Luigi Orione, lei ha curato la scenografia di un documentario intitolato Sui passi di Don Orione, di che cosa si tratta? Nel panorama così della comunicazione, dell'esperienza di questo santo, perché per questo la Chiesa proclama un santo, perché ne sia conosciuta l'esperienza come una via di sequela evangelica, quindi per rendere non solo accessibile ma anche caloroso l'adesione dei fedeli. Nel quadro di questa comunicazione mancava un film di tipo proprio biografico nella sua completezza. Sui passi di Don Orione è impostato proprio, come dice anche il titolo, come una guida, una guida sui luoghi di Don Orione, proprio e accompagno durante questo film come conduttore questa visita sui luoghi di Don Orione, nei luoghi di Don Orione ricordando la storia e poi aprendo il panorama perché la storia e la vita di Don Orione non si è conclusa con il 12 marzo 1940, la sua morte, ma si è conclusa con la beatificazione e canonizzazione e soprattutto continua con la piccola opera della Divina Providenza. Qual è l'attualità di questa figura di Don Orione? Ma l'attualità, mi viene da dire, dato che vedo le immagini del Papa, è l'attualità del Papa. Uno stampo di prete, lui, che vuole che così siamo anche noi, in mezzo alla gente, con linguaggio della gente, con una prossimità umile e fedele, appassionata della Chiesa e soprattutto appassionata di Cristo. Quindi ci chiamava preti di stola e di lavoro, per intenderci, ecco, no? Quindi da una parte tutta quell'azione anche istituzionale, l'azione di evangelizzazione, ma poi la carità è la miglior predica. Lo stratega della carità. Sì, stratega della carità. Ecco, e questa strategia della carità, che evidentemente è la strategia evangelica, è la scelta fatta dal nostro Signore Gesù Cristo, era nel caso di Don Orione finalizzata in modo particolare a creare coesione dentro la Chiesa, attorno al Papa. Noi facciamo un quarto voto di speciale fedeltà al Papa che indica questa concentrazione ecclesiale. Quindi la strategia sta proprio qui. Ecco, da una parte i mezzi, le opere, le azioni, sono di tipo caritativo, sociale, di vicinanza, no? E attraverso questa azione stringere alla Chiesa il Papa per portare a Cristo. E questo lui diceva, ecco, la carità è la migliore apologia della fede cattolica. E intanto ci prepariamo ad ascoltare la terza catechesi del ciclo sullo Spirito Santo, che oggi si soffermerà in particolare sull'amore di Dio. Luca, l'importanza di questo ciclo che il Papa ha voluto inaugurare, il ciclo di meditazioni sullo Spirito Santo. Beh, è importante lo Spirito Santo. Oggi mi viene da dire che lo Spirito Santo in molti casi viene un po' codificato, caratterizzato, umanizzato, viene spinto da una parte e dall'altra. Lo Spirito Santo soffia e il nostro compito è cercare di riconoscerlo, è libero. È forse una delle cose più belle lo Spirito Santo perché va ovunque, è ovunque e va dove lui vuole. L'uomo ogni tanto cerca di ingabbiarlo, ma non ci riesce. E speriamo che questo rimanga per molto tempo. Don Flavio, in un flash per lei l'importanza di questo ciclo sullo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio, è Dio e quindi è la sua presenza come non si può troppo istituzionalizzare, schematizzare Dio, anche lo Spirito Santo nella sua presenza è creativo, soffia quando vuole, dove vuole e conduce la storia. Lo Spirito Santo ha la provvidenza di Dio in atto attraverso quelle mille mediazioni delle libertà umane, degli eventi e della storia. Bene, allora diamo la linea a Piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Francesco. E con la benedizione di Papa Francesco termina l'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro. Don Flavio Peloso, in conclusione, l'appello per la pace è immancabile da parte di Papa Francesco. Preghiamo per la pace, oggi ci vuole la pace, ha detto. Sì, è un bene essenziale, sta alla base di tutti gli altri beni ed è a conclusione di tutti gli altri beni, quindi da ricercare nella sua espressione essenziale che è l'assenza della guerra, della morte, della mortificazione dei popoli e per andare poi a tutti gli altri aspetti positivi che rendono possibile la pace, sappiamo, ecco, giustizia, verità, cooperazione. E saranno questi i temi che il Papa affronterà venerdì a margine del G7 in Puglia. Parlerà di intelligenza artificiale, sì, di pace, l'utilizzo quindi delle nuove tecnologie in funzione appunto di una convivenza pacifica. Ma insomma, Luca, cosa ti aspetti che verrà fuori da questo appuntamento importante al quale prenderà parte il Papa? Ma mi aspetto che i cosiddetti grandi del mondo riescano a fare tesoro delle parole che il Papa dirà. Io credo in particolare sul tema della pace, parlerà dell'intelligenza artificiale, però oggi l'intelligenza artificiale rischia di diventare uno strumento militare molto pericoloso, se lo vogliamo proprio anche analizzare tra tutte le componenti che può, anche in positivo, l'intelligenza artificiale alimentare. Vediamo quello che il Papa dirà e vediamo come i grandi del mondo riceveranno queste parole. Non credo che saranno parole che avvalleranno, diciamo così, quello che per ora stanno facendo sulla guerra, non solo in Ucraina ma in altre parti del mondo. Tra l'altro il Papa oggi ne ha, ne ha parlato anche ieri incontrando i sacerdoti, non c'è solo il tema della guerra, ci sono gli investimenti nelle armi, armi che poi vanno ad alimentare guerre, ma ci sono anche altri tipi di investimenti che il Papa ha, su cui ha messo in guardia. Insomma, credo che sia un incontro storico molto importante e molto importante anche per il futuro del mondo. Don Flavio, lei cosa si aspetta da questo incontro in Puglia, il Papa con i grandi del mondo, a parlare di questi temi con la schiettezza che è propria di Papa Francesco? Sul tema della pace, ancora una volta, credo che chiederà ai potenti una mossa di responsabilità, una scossa anche di orgoglio, perché in fondo i potenti non hanno molto potere su questi temi, i potenti politici. Senti, il Papa nei saluti ha ricordato la figura di Sant'Antonio da Padova, domani si celebra una giornata importante, auspicando che possa essere un esempio, ha detto da seguire, per diventare testimoni del Vangelo, testimoni credibili del Vangelo. Ecco, Papa Francesco ripete spesso che è importante conoscere la vita dei Santi e voi anche per questo motivo avete pensato di realizzare un documentario sulla biografia di Don Orione. Ecco, qual è l'episodio secondo lei più affascinante della vita di Don Orione? Della vita di Don Orione? Ma ce ne sono tanti, ecco ci sono dei fatti che hanno il sapore di una parabola evangelica, gesti e fatti personali di delicatezza e ci sono eventi, azioni, pensieri che influirono sulla scena ecclesiale e politica. Ecco, non so, tra questi posso ricordare la sua partecipazione a una commissione che cercò e che fece una proposta per la soluzione della questione romana, quindi che portò alla conciliazione. La lettera a Mussolini in questo senso, iniziative, scrisse al Ministero delle Finanze per chiedere una maggiore attenzione nelle leggi del mercato. Naturalmente lui era un sacerdote ed era un appassionato del bene dei poveri e della gente, però si faceva anche istruire su alcune leggi e comprendeva che oltre all'azione e alla testimonianza diretta ci vuole un'azione anche strutturale. Ecco, iniziative molto coraggiose, la vicinanza a certi esponenti del mondo modernista, ma poi fu il suo modello di sacerdote e poi il modello di sacerdoti, di suore, di laici che egli lanciò nel mondo, che si proponeva proprio una vicinanza alla gente. Oggi si parla di periferie, uno dei suoi slogan preferiti e soprattutto una delle sue azioni preferite fuori di sacristia, indicando quella vicinanza alla gente, quella presenza istituzionale strettamente connessa con la Chiesa, con il Papa, con il suo quarto voto, ma proprio in forza di questa passione della Chiesa, la vicinanza alla gente, far sentire che la Chiesa diceva è madre e non matrigna. C'era in quell'epoca, anche oggi, una visione di Chiesa staccata, di Chiesa potere, di Chiesa unità sociologica. Lui voleva far sentire la maternità, le opere di carità, di vicinanza. Questo fece la strategia della carità. Dove si può vedere questo documentario? Allora, questo docufilm di 66 minuti sui passi di Don Orione si può vedere ed è di libero accesso in un sito adesso dedicato, la sigla è www.tuttoattaccato sui passi di Don Orione.it Lì è già disponibile in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese, e sarà disponibile anche in francese, portoghese e polacco. Dunque, Luca, a proposito di Santi, la notizia interessante, forse più interessante, molto interessante per la Chiesa riguarda Carlo Acutis. A breve si conoscerà la data della canonizzazione, il primo luglio, il Papa ha indetto questo concistoro dalla quale appunto sapremo. Che cosa c'è da aspettarsi relativamente alla canonizzazione di Acutis? Negli ultimi tempi se ne parla molto ed è un fatto su cui riflettere, vero? È un santo di cui si parla molto, è un giovane, è un santo che potrebbe essere definito un santo moderno, un santo che è appassionato di web, appassionato di internet, appassionato di fotografia, appassionato dei filmati, un santo della nostra vita quotidiana. Credo che questo colpisca molto non solo i giovani, ma un po' tutti quanti noi, perché noi siamo abituati a figure di santi del passato, figure di santi molto importanti, molto ricchi di significati spirituali. Questo è un santo che parla al tempo moderno, però lo fa anche con il metodo del passato, con il metodo del rispetto per quelli che sono i valori cristiani. Credo che questo sia una sintesi di Acutis molto bella. Non ha lasciato grandi scritti a un ragazzo, è morto a 15 anni, però ci sono delle frasi slogan. Ha lasciato qualche filmato che spesso gira sui social, e anche questa è un'altra grande novità per quanto riguarda un santo. Spesso sui social troviamo qualche messa di Padre Pio, l'ultima benedizione di Padre Pio, la voce di Padre Pio, però vedere un giovane che diventerà santo, che ti parla attraverso i social, anche questa è una grande novità. Io credo che sia una figura molto importante, che richiama la modernità però con il metodo del passato, con i valori di quella che è la tradizione cristiana. Don Flavio, una figura trainante questa di Acutis. Sì, coinvolgente direi, anche queste scelte che Papa Francesco ha accentuato, di santi della porta accanto, santi della vita quotidiana, santi della normalità, di quella normalità che ha come criterio e centro di coesione il Vangelo, la fede. Ecco, il Papa Francesco accentua, è una forma di pastorale anche questa, presentare di questi santi che sono un emblema, sono una parabola di com'è la vita, la vita umana, la vita sociale, la vita giovanile, la vita lavorativa, la vita culturale, in una normalità. Io sono affezionato a questa parola, normalità, normata, che ha come riferimento centrale il Vangelo e la fede. Se posso dire l'ultima cosa, è un santo che richiama sul mistero della vita, perché è morto a 14-15 anni, se non vado errato, una vita intensa, e qui c'è tutto il mistero della vita. Tu puoi vivere 15 anni, diventare santo, fare tante cose e lasciare un messaggio universale e infinito e immortale. Quindi anche qua, secondo me, c'è una riflessione da fare. 15 anni di vita, vissuti così, sono come 100 anni e un secolo. Quindi, grande, grande riflessione anche sul mistero della vita umana. Ed è un po' in linea con il Concilio Ecumenico Vaticano II, no? Bisogna studiare le vite dei santi, riprendiamole ad analizzarle, a conoscerle, perché poi alla fine la santità non è avere superpoteri, ma è, come stava dicendo, appunto la normalità. Sì, appunto il Concilio Vaticano II ha canonizzato quell'espressione Dio mirabile nei suoi santi, che non vuol dire qui semplicemente ammirabile. Mirabile, Dio che si può vedere nei santi. I santi sono l'esegesi per l'uomo d'oggi, per la vita quotidiana del Vangelo, della santità, della teologia. Ecco, in questo senso anche questo nuovo santo ragazzo che ha vissuto i valori dell'oggi ci fa vedere come si può ammirare Dio che fa lievitare, fiorire, brillare una vita per quanto breve. Ed è un fenomeno che da sì si sta portando una ventata di attenzione. Chi l'avrebbe mai detto che accanto a Colossi della Santità, del calibro di San Francesco, Santa Chiara, ma potesse venire fuori un nuovo polo, diciamo così, di attrazione sulla via della santità. Ma guarda, ritornando a quello che ha detto il Papa oggi sullo Spirito Santo, credo che lo Spirito Santo soffia. Questo è un esempio di come soffia ad Assisi. San Francesco è il Signore Assoluto da secoli. C'è questo piccolo giovane che torna e in qualche modo si affianca a San Francesco. Lo Spirito Santo, come vedi, credo che parli tantissimo anche al mondo di oggi in questo modo. soffia in questo modo. Una cosa mi sento di dire, attenzione, un po' anche, non vorrei dire alla superstizione, ma comunque vedo che intorno anche alla figura di Iacutis incominciano anche a trapelare qualche atteggiamento un po', che forse con la fede ha poco a che fare. E questo è forse l'unico piccolo aspetto di cui fare attenzione. Forse qualcosa legato al fatto che il corpo sia visibile, queste cose qui. Il corpo visibile, sì, insomma, ci sono tutta una serie di elementi che se non ben inquadrati e ben, diciamo così, indirizzati, potrebbero anche dare qualche spunto, diciamo, a qualcosa che con la fede forse c'è poco a che fare. Don Flavio, del resto le reliquie, no? Abbiamo bisogno delle reliquie, la storia è piena di questi simboli, no? Quindi resti dei santi che ci servono in qualche maniera per stabilire un rapporto con loro. Sì, le reliquie hanno una lunga storia, soprattutto nella Chiesa orientale, in un secondo momento anche nella Chiesa occidentale e romana. Sono un segno, sono qualcosa appunto, qualcosa del santo e hanno un ruolo evocativo del santo nella sua esperienza umana e spirituale. Però, ecco, c'è anche un aspetto, diciamo così, più teologico, ecco, soprattutto le reliquie excorpore del corpo. In ambito della fede cristiana c'è un grande culto, dico, del corpo, non quello reclamizzato oggi, ma perché è il Tempio dello Spirito Santo, perché è stato il tabernacolo, è stato il tabernacolo di Gesù nella vita. Quindi anche la materialità ha un suo valore e quel corpo è corpo glorificato. Bene, grazie per queste sue puntualizzazioni. Luca, ricordiamo anche che venerdì 14 giugno, prima di partire per la Puglia, il Papa incontrerà alle 8.30, e ci sarà la diretta di questo evento, gli artisti del mondo dell'umorismo, ed è un incontro particolare, diciamo. Siamo in chiusura, un flash per questo appuntamento. Mi viene in mente l'incontro di Paolo VI con il mondo dell'arte, degli artisti, dello spettacolo. Paolo VI chiese una collaborazione... Diventiamo amici. ...al mondo dell'arte, perché credo che sia arte poi anche quella, in questo caso sono dei comici, ma spesso i comici oggi hanno un ruolo fondamentale nell'esprimere delle verità, e anche a prendersi anche delle licenze poetiche per affondare talvolta anche dei colpi, per far riflettere le persone. Io credo che il Papa faccia bene a incontrare questo tipo di arte. L'umorismo aiuta la fede. Sì, l'umorismo è quello sguardo che si stacca dalla vita nella sua materialità, nella sua ovvietà, per scoprire qualche cos'altro. In questo senso ha un ruolo poetico, proprio nel senso etimologico. Ha un ruolo creativo di far pensare quando è umorismo di buona lega. Bene, bene. Grazie Don Flavio Peloso per essere stato con noi. Grazie anche a Luca Collodi, alla squadra di Telepace Roma, a tutti voi per essere stati in nostra compagnia attraverso la radio, la televisione e il web. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Il racconto del mercoledì, in diretta dal Vaticano. Una produzione Telepace e Vatican News. A cura di Eugenio Bonanata.